Mi sono voluto dedicare con il mio studio finale all'Università di Catania su quello che è il nuovo processo di riconversione e in particolare su quello che è il bilancio energetico e ambientale dei processi che verranno. Uno studio interessante perché quello che è emerso di fatto porta delle emissioni in atmosfera di ben il 60% e meno rispetto a quello che era il vecchio processo di raffinazione del petrolio. È uno studio fatto su dati certi forniti naturalmente da Eni. È uno studio venuto dopo sei mesi di stage all'interno dello stabilimento, quindi della raffineria. È in partenariato quindi anche sviluppato, in seguito verrà anche sviluppato dal Dipartimento Ingegneria Industriale di Catania diretto dal professore Francesco Patania, dall'ingegnere professore Francesco Patania. È interessantissimo perché è attualissimo, perché ha dato un chiaro segnale di quella che è la fattibilità dei nuovi processi. Si è calcolato anche un indice di rendimento di tutto quello che è il processo green che è ben superiore a quelle che sono le aspettative. Pensa di poter mettere a disposizione questo studio anche dei colleghi dell'Assemblea? È normale che quando si parlerà di Eni avrò praticamente un qualcosa in più rispetto ad altri perché so di fatto di cosa si sta parlando, nello specifico ecco. Parlando proprio di tecnicismi, parlando anche di quelli che sono i singoli processi, parlando di quelle che di fatto sono le emissioni reali e l'energia e il processo che verrà in un futuro all'interno del nostro sito industriale. È stata una scelta studiata a monte, nel senso poter affrontare uno studio che poi potesse essere sfruttato comunque anche per delle vicende pratiche reali che si stanno sviluppando proprio in questi mesi a Gela. Diciamo che mi sono trovato al posto giusto al momento giusto perché si parla tanto di fattibilità o meno se è un pagliativo per poter far rimanere Eni qui a Gela. Io penso che di fatto ci può essere uno sviluppo attraverso quello che è il green diesel e quelli che sono i processi futuri perché si parla anche di un aggiornamento degli impianti per quelle che possono essere anche cariche di seconda e di terza generazione quindi si parla anche di biomassa, di percolatura di rifiuti cioè il rifiuto può diventare anche risorsa per il nostro territorio. Realizzabile a Gela? Assolutamente sì, questo può essere il futuro industriale per la nostra città. Congraturazioni. Grazie.